Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e come potrete già notare dall'intro particolare contenuto. Sono sicuro che moltissimi di voi almeno una volta nella vita hanno pensato se o come sarebbe non solo allenarsi, non solo fare un'attività particolare, ma vivere senza avere la possibilità di vedere la difficoltà che avrebbero nella quotidianità, nel fare i gesti di tutti i giorni. Io me lo sono immaginato molte volte e mi ha sempre affascinato come le persone a cui è stato tolto qualcosa dalla nascita o durante la vita abbiano sviluppato delle caratteristiche tanto incredibili quanto affascinanti proprio come risposta a questa mancanza che la natura o un avvenimento gli ha creato. E veramente mi crea un fascino incredibile vedere come queste persone riescono a fare delle cose eccezionali. Perché grazie a questa dote si riesce a far emergere una parte di noi stessi che non esisterebbe, che tutti abbiamo latente, ma non avendo il bisogno di farla emergere potremmo anche non conoscere mai. Ecco questo è il caso di Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao Andrea, bene grazie. Tu come stai? Bene, benissimo. Molto contento di essere qui perché questo contenuto mi ha incuriosito da subito quando me l'hai proposto perché ce l'hai proposto tu, ci hai contattato tu e sono molto molto curioso di vedere che cosa uscirà da oggi. Ecco Marco è un ragazzo parzialmente cieco, quindi spiega alle persone che cosa vuol dire essere parzialmente ciechi a livello proprio di fatto. Come vedo quindi. Come vedi o come non vedi. Sì, esatto, quello che vedo e quello che non vedo. Ogni persona cieca parziale o ipovedente, quello che è, vede a modo suo, quindi posso dirvi come vedo io e come generalmente vedono le persone. Nel mio caso io non vedo lateralmente, non vedo sopra e sotto e non vedo al centro, quindi ho proprio due piccoli fasci di luce che riesco a vedere distinti l'uno dall'altro, quindi le cose o le guardo con un occhio o le guardo con l'altro. Dove vedo la qualità di quello che vedo è come se guardassi un oggetto, un obiettivo da molto più lontano, quindi come se la tua faccia che adesso è a circa un metro da me, la qualità dell'immagine è come se tu la vedessi da 20 metri, quindi magari vedi in generale la sagoma del viso, degli occhi, magari non riesci a vedere se gli occhi sono aperti o chiusi, da che lato stanno guardando, l'espressione, l'espressione non riesci assolutamente a vederla. Quindi tradotto su di me adesso, tu di me cosa che vedi per far capire alle persone? In questo momento vedo la sagoma del tuo viso con la sagoma degli occhi. Spero una grossa sagoma. Una grossissima sagoma. Questa è importante. Con un cappello azzurro, blu, non lo so bene, la sagoma della barba e poco altro, insomma la sagoma degli occhi, forse adesso ho visto che hai sbattuto gli occhi, però non so se sono aperti o chiusi, se hai degli occhiali, non lo so. Più mi avvicino ovviamente meglio vedo. Ok, quindi la distanza comunque conta, più ti avvicini più vedi. Ah certo perché prima mi dicevi che infatti tu ad esempio quando studi o quando leggi devi avvicinarti molto al computer, avvicinarti molto al libro. Esatto, sì questo lo faccio un po' per tutto quello che faccio, cioè qualsiasi cosa che, qualsiasi attività che svolgo nelle mie giornate, quel poco che vedo cerco di sfruttarlo al massimo possibile, ma inconsapevolmente. Infatti questa è una cosa naturale che succede nel cervello delle persone che magari hanno un deficit, una mancanza, qualcosa, ed è una cosa positiva perché vai a sfruttare quel poco che hai al massimo, ma è anche una cosa negativa perché come ti dicevo ha anche dei lati negativi, quindi studiare piegato per anni a scuola o usare degli atteggiamenti sbagliati a livello proprio di posturale ha portato anche delle complicazioni. È abbastanza fastidioso e porta comunque a delle complicanze future, sì. Che cosa c'entra Marco con quello che faccio io, bodybuilding? Allora partiamo col dire che Marco è comunque uno sportivo, ha fatto diverse attività sportive nel corso della sua vita, tra cui judo, dicevamo prima, in cui ho raccontato a Marco che da ragazzino quando ho fatto judo a livello gonistico ho avuto molte volte a che fare con persone non vedenti e tra l'altro in quel caso completamente non vedenti, è un episodio che mi ricordo di questo ragazzo belga molto molto forte da cui ho preso un sacco di botte, ma veramente ragazzi un sacco di botte, tant'è che a un certo punto non credevo fosse cieco, mi sta pigliando per il culo, è impossibile che... e invece no. Era cieco, mi ha dato le botte per gioco, per farmi capire come se lui si sentisse mi ha vendato ed ha vendato e ho detto giochiamo a darmi pari e ho preso ancora più botte, proprio massacrato di brutto. Quindi lì ho valutato che forse non era tanto il mio sport, proprio quello in cui ero più bravo. C'è da dire che appunto il judo è uno sport molto di contatto, molto pieno. Esatto, e voglio arrivare qui. Marco si allena anche con i pesi, non tantissimo perché ha una piccola home gym a casa e da quello che ho capito ha esperienza con pochi esercizi, ma lo scopo di questo video è fondamentalmente quello di... punto numero uno, oggi si apre una piccola sfida nella quale Marco si impegna a fare un percorso in palestra di almeno due volte a settimana, dove si allenerà, lo seguiremo noi come team e l'obiettivo sarà quello non solo di migliorare a livello estetico, ma anche quello di far fronte a questi fastidi posturali che sono sopraggiunti dopo tanti anni di atteggiamenti sbagliati. Perché chiaramente il bodybuilding è un'attività che rinforza, ti rinforza a livello muscolare, anche a livello di stabilità, a livello del cuore, a livello dei muscoli che sostengono la colonna vertebrale, è l'attività in questo caso migliore o comunque più adatta che tu possa fare. Il secondo motivo è che io, con un termine poco carino ma realistico, vorrei sfruttare Marco per dimostrare come un aspetto che io sono anni che considero fondamentale, anzi che considero l'aspetto fondamentale che fa la differenza nel bodybuilding e cioè la famosa connessione mente-muscolo, sia veramente un qualcosa che tanto per noi è difficile da conquistarci, tanto invece per Marco è una dotta innata e vi spiego perché. Il 99.9% delle volte che si presenta da me una persona che già si allena, che ha un percorso in palestra più o meno lungo e tutti voi questo lo potranno riscontrare guardando i vostri amici o magari voi stessi, le aree muscolari più sviluppate sono sempre quelle che io riesco a vedere mentre lavoro, mentre mi alleno. Notoriamente tutta la parte posteriore del corpo è sempre più indietro sia a livello di volume sia a livello di qualità, perché? Perché la lavoro con un'enfasi diversa, perché noi, per noi, la vista è una è uno strumento fondamentale. Sì, forse è abusato anche. Cioè, è uno strumento sul quale poggiamo talmente tanta fiducia, talmente tanta considerazione che ci dimentichiamo che il bodybuilding è percezione e sensibilità non solo da un punto di vista vedo e allora riesco ad allenarlo, ma devo riuscire a percepire la contrazione del lavoro scollegandomi da qualsiasi altro intervento esterno che non sia, questa benedetta, connessione mente muscolo. La prima cosa che vi dicono di fare quando vi allenate per concentrarvi qual è? Chiudere gli occhi. Perché se non ho riferimenti sono in una condizione mentale in cui devo per forza ascoltarmi, devo per forza percepirmi e siccome l'attivazione muscolare è una prerogativa che prevede un grande impegno mentale, la vista in quel caso è una distrazione. Certo, può aumentare il vostro ego, perché se sto allenando i bicipiti e allo specchio vedi i bicipiti pieni di sangue in pump, sono soddisfatto, ma questo non va a migliorare la qualità del lavoro che state facendo. Semplicemente vi focalizzate su quello e perdete tutti gli altri aspetti, che sono quelli fondamentali per far sì che un muscolo cresca. Il fatto di riuscire a togliere qualsiasi distrazione esterna, e in questo caso ciò che vedete può essere una distrazione, e concentrarvi sulla pura percezione del muscolo che lavora. Questa è una caratteristica che Marco ha in automatico. Perché? Perché non potendosi basare sulla vista, lui se vuole eseguire un movimento, se vuole eseguire un'azione, non potendosi basare su riferimenti visivi, deve avere una percezione del suo schema motorio all'interno dello spazio veramente alta. E questo per me è affascinante ragazzi, perché quello che dicevo all'inizio video, una cosa che noi ricerchiamo per anni e che tanti atleti non riescono a raggiungere, nonostante si dedicano in palestra ore e ore al giorno per tutta la loro vita, lui ne ha fatto il suo punto di forza derivato da una condizione sicuramente di deficit. È bellissimo vedere come il corpo umano, quando manca qualcosa, estremizza altro e ti fa scoprire che c'è tanto altro oltre a quello che tu pensi di non avere. Noi abbiamo una mentalità pessimistica, quando non abbiamo qualcosa ci concentriamo su ciò che non abbiamo e non facciamo invece conto ciò che potremmo avere di più proprio perché dobbiamo adattarci e noi siamo esseri diventi che devono adattarsi. La crescita muscolare è adattamento, è uno stimolo e un adattamento, uno stimolo, tutto si ricollega. Quindi io oggi cosa voglio fare con Marco? Io voglio provare a impostare con lui due esercizi che solitamente sono due bestie nere per tutti i neofiti che vengono in palestra, che sono degli affondi, quindi un lavoro per gli arti inferiori e anzi ne faremo due per la parte alta, quindi in totale sono tre, un curl con bilanciere in piedi per i bicipiti e un'alzata laterale con i manubri per le spalle. Sono tre esercizi che quando tu fai vedere a un ragazzo neofita, l'80% delle volte li fa completamente sbagliati, proprio a livello di impostazione sua. Io sono convinto e questa è la mia scommessa, giuro che non abbiamo provato prima, quindi siamo a zero. Io sono convinto che Marco riuscirà a farli correttamente, molto più velocemente rispetto a una persona che fa della vista un riferimento importante per orientarsi all'interno comunque in questo caso dello spazio in palestra. E dall'altra parte voglio mettermi nella prova come trainer, perché? Perché mi trovo di fronte a una persona che lavorando su parametri differenti necessiterà di una didattica differente, una didattica che sarà basata tantissimo sul tatto, sul fargli percepire che cosa lui deve contrarre, quando lo deve contrarre non potendoglielo mostrare ma dovendoglielo far sentire. Io non so voi ragazzi ma questa roba fa impazzire, cioè veramente io sono convinto che se rifacciamo questo video tra 6-7 mesi e tu arrivi con un bagaglio di lavoro di 6-7 mesi, veramente dimostriamo a tutti come lavorando su binari diversi si possono ottenere risultati veramente incredibili e anche più velocemente, perché la connessione mente e muscoli è una caratteristica che alcuni atleti come dicevo prima non raggiungono in anni. Tu avendola allenata inconsciamente per tutto questo tempo, la ottimizzi e anche i risultati saranno ottimizzati. Penso sarà una bella scoperta anche per me scoprire questo lato di me che probabilmente ho ma non ho mai utilizzato così costantemente con così tanta relazione. Ce l'hai ma non l'hai mai finalizzato questo ambiente perché non hai mai lavorato in questo ambiente. Esatto. Facciamo questa sfida? Ci sto. Sei pronto? Bene bene sì, volentieri. Cambi, andiamo. Va bene. Allora, primo esercizio ragazzi, alzate laterali. Io volevo farvi notare una cosa riguardo alla sua postura, soprattutto guardandolo di lato. Marco ha una retroversione del bacino, quindi porta il bacino avanti, non ha molto controllo addominale, tende a buttare leggermente fuori l'addome e una leggera cifosi dorsale. Ok? La prima cosa da impostare su qualsiasi esercizio in piedi è la postura. Non potendogliela mostrare, io cercherò di adattargli, impostargli, obbligarlo a stare in una determinata postura muovendolo. Allora, prima di tutto Marco, divarica leggermente le gambe, la larghezza delle anche. Ok. Da qui piega leggermente le ginocchia. Ancora un po'? Ok. Avete visto come hai piegato le ginocchia essendo in retroversione e scivolato in avanti. Fermo così. Adesso tenendo le ginocchia in questo modo porta leggermente indietro il bacino. Perfetto. E stai qua. Quindi da qui in giù devi rimanere fisso qui, come se fosse cementato. Contrai un po' l'addome come se volessi indurire la pancia. Bravissimo. E stai in postura. Da qui l'esecuzione poi sarà questa. Ok? Ma questa è l'impostazione. Abbiamo parlato prima di utilizzare la testa per analizzare lo schema motore che è stato impostato e da qui non devi più muoverti. Quindi percepisci come sono le caviglie, percepisci quando sono flesse le ginocchia, percepisci la differenza da come eri prima, riputo il bacino avanti come eri prima, a come te l'ho impostato, quindi questa retro e anti versione di bacino. Non mollare qui. Questa la faremo scendere, fidati. Questa è la posizione di partenza che devi mantenere durante l'esercizio. Ok. Questa è una postura, lo vedete che è leggermente forzata perché va contro la postura che lui ha utilizzato fino ad ora per anni, però è corretta. Di base è corretta. ora, liberati pure dalla postura, hai davanti a te i manubri a terra, ti prendi, fronte a me. Prima di partire rimpostiamo tutto. Piedi, leggermente più larghi, ginocchia, bacino, perfetto. Stai qua. Adesso da qui noi dobbiamo portare le braccia tenendo spalla, gomito e polso in linea. Ok. Adesso noi dobbiamo fare un'alzata laterale, quindi portare i manubri in apertura in questo modo. Ok. Quindi l'apertura è fatta in questo modo. fin dove arrivo? Fino all'altezza della spalla, tenendo polso, gomito e spalla in linea. Ok. Proviamo. 3, 2, 1, su. Molto bene. Non mollare sotto, eh. Ginocchia, bacino e anche. Due. Via, su. Ok. Lento a scendere. Controlla sempre la discesa e un po' più deciso in salita. Via. Lento ora. Fino in fondo controllo. Fino in fondo. Molto bene. Siamo a 3. Anche se è leggero, non sparare i manubri verso l'alto. Un po' più deciso ma controllato. Molto bene. Ricordati come se fossi in croce quando sali. Polso, gomito e spalla. Molto bene. Controlla fino in fondo. Marco. Piano. Gestisci, gestisci, gestisci. Ok. Su bene. Lento. 3, 2, 1. Via. Non mollare qui. Non mollare qui. Non mollare qua. Via. Su. Ancora 3. Forza. Su bene la fatica. Bene. Adesso che su bene la fatica mettiamo la prova se riesci a mantenere la posizione corretta. Altre 4 allora. Forza. 1, 2, non mollare nulla. 3, forza. 4, giù i manubri. Non mi sbagliavo. Chi tra voi che sta guardando il video insegna in palestra o chi comunque si allena, sa che quando subentra la fatica automaticamente da questa posizione una persona solitamente stende le ginocchia, butti in avanti il bacino e compensa. Cerca di fare una specie di movimento ad ondolo oppure cominci a utilizzare i tre pezzi. Contando che sarà la terza volta in vita sua che li fa, li ha fatti perfetti. Una volta impostata la postura iniziale non l'ha più mollata e l'ha fatta. Ok? Perfetto. Questo è quello che tu devi riprodurre ogni volta e ricordati sempre, anche nel prossimo esercizio, la posizione quando fai esercizi in piedi è quella, ma la rifai da solo. Gambe, ginocchia, bacino, controllo. A posto. Ripeto, si vede che adesso è innaturale, che è forzata, perché non l'ha mai fatta e va in controtendenza a quello che il suo corpo ha fatto per anni e che si è trattato ad avere. Ma già il fatto che riesca a mantenerla e che la riproduca da solo, ripeto, se avete mai provato a prendere una persona e fargli vedere da zero un esercizio, 99.9% delle volte la perde o se io lo rimetto in una posizione neutra, non lo sa rifare. Posizione, rimettiti, via. A posto. Questo in piccolo è il vantaggio che dicevo. E sono convinto che più avanti andremo nel tempo, più vedrete con che facilità eseguirà degli esercizi che per alcuni ci vogliono mesi e mesi e mesi per avere un minimo di esecuzione corretta. Ok? Era una qualità che forse neanche io veramente sapevo di avere. Cioè, la scopro anch'io in questo momento di come riesco a farlo. Ripeto, secondo me tu sei consapevole di averle in tante cose, che fai però senza nemmeno pensarci. Sì. Perché è una condizione che hai dovuto far sì che diventasse tua per ovviare a qualcosa che invece non hai. È normale? Esatto, sì. Tra l'altro parlavamo che se a volte succede che invece la persona riesce a mantenere la postura è perché la controlla allo specchio. Cioè, il check allo specchio diventa fondamentale perché l'istruttore me l'imposta, la guardo, ho un rimando visivo in testa, lo fisso, mi ricontrollo e vedo che c'è qualcosa che non va. Qua è tutta percezione, non c'è nessun riferimento. Ragazzi, immaginate di essere bendati. Ma non bendati quando sapete fare un curl da dieci anni e chiudete gli occhi per concentrarvi. La prima volta, come se io dovessi pattinare, anche me ho nella mano con uno che mi fa schiantare contro un muro. Ma pattinare a occhi chiusi diventa difficilissimo. Però, se impari a farlo a occhi chiusi, poi diventa la cosa più naturale del mondo. Ed è la situazione che lui vive costantemente. Curl con bilanciere. La posizione è uguale. Qual è l'errore che può fare? Quello che, siccome l'esercizio prevede di flettere l'avambraccio sul braccio, quando lui comincia a far fatica, compensa andando in iperlordosi. Quindi facendo questo movimento, io stendo, bravissimo, e vado indietro. Stendo e vado indietro. Noi invece, tramite il controllo addominale e la posizione del bacino che abbiamo assunto prima, devo stabilizzare. Il peso ti permetterà di farlo, perché oggi non interessa delle cariche impegnativi, devi controllare il movimento. Ok? Ok. Il bilanciere è a terra, quindi lo raccogli. Le mani esattamente dove le avevi messe un secondo fa, quindi vicino a questa piega. Ok. Perfetto. Adesso parti con le braccia tese. Riprendi la postura. Fissati. Adesso, quando porti il bilanciere verso l'alto, indurisci l'addome e tieni la respirazione. Non buttare fuori l'aria. Quindi è... Indurisco. Bravo. Portalo verso le spalle. Adesso fuori l'aria. Su in apnea. Fuori l'aria. Su in apnea. Ok. Visto che il carico è leggero, quando sali, non farlo di scatto. Pensa subito di contrarre. Il muscolo devi percepire questo. Prima era qua. Adesso è qua. Qui. Da questo punto a questo punto. Ok. Tutto il resto, se senti un po' di contrazione, è perché devi stabilizzare. Certo che sento la contrazione qua, ma non perché l'addome ha il lavoro in maniera attiva. Perché qui, qui, c'è tutto il controllo per non farti fare questo. Ma la parte attiva è qua. Tu visualizza nella tua testa solo qua. Via. Esatto. Perfetto. Visualizza qua. Solo qua. Da questo punto fino a questo. Molto bene. Molto bene. Tieni l'attenzione. metti la concentrazione. Non mollare un singolo punto di quelli che abbiamo impostato fino adesso. Ok. Vacino, ginocchio, piedi, scapole. Guardatelo. Non perdo un centimetro. E adesso, anche se il carico è leggero, comincia a far fatica. Non compensa di una virgola. Fane ancora tre, Marco. Fermo. Rilassa. forza. Ok. Scendi un secondo. Rilassati un attimo. Recupera tutto, soprattutto qua. Non mollarmi qua. E via. Forza. Tre. due. Forza. Uno. Bravissimo. Giù il carico. Dammi un po' le sensazioni. Adesso che sei fermo, a una persona direi qui gli occhi. A te non lo dico. Percepisciti e cerca di sentire. Che sensazioni hai? Dove senti tensione? Tanta. Dove senti magari anche fastidio? Perché rimpostando la postura, magari un po' di fastidio ai lombari ce l'ho. Sì. Sento tensione, bicipiti, quindi penso di aver lavorato esattamente. e un fastidio nella zona lombare. Nella zona lombare sinistra, tra l'altro. Ok, quindi vuol dire che se andassimo a analizzare la schiena potresti avere anche una leggera scogliosi, quindi non solo una... Ok, perfetto, quindi abbiamo indovinato. Ok. Sì, ma quella la sentivo già dall'esercizio prima. Come hai impostato il corpo in maniera differente? Cioè, dal momento che hai messo un'impostazione differente il corpo distribuisce uno scompenso. Ricordatevi che il vostro corpo, anche se alla vista voi siete compensati lui si sente in equilibrio perché il corpo attuerà qualsiasi tipo di strategia per avere un suo equilibrio. Quindi voi alla vista avete una persona che cammina leggermente storta ma lei dentro di sé si sente in linea. Assolutamente. Quindi vuol dire che se lui ha sempre avuto una retroversione di bacino cambiargli completamente la postura impostata in una linea diversa che a livello fisiologico è corretto dovrebbe essere la normale ma non è la sua normalità. Non essendo la sua normalità questo ti causa un po' di fastidio ai lombari che non sono abituati a questo tipo di tensione. Quindi devi impostare a casa lavoro sull'addome e lavoro sui lombari. Ok? Grazie. Passiamo al prossimo affondi. Ok. Prima di fare il prossimo esercizio che sono gli affondi tu adesso fuori camera mi hai detto una cosa ho fatto tante volte bicipiti in vita mia perché è uno dei pochi esercizi che mi dicevi che a casa comunque facevi. Sì perché non riuscendo neanche a guardare e avere un confronto un risponso né allo specchio né magari da video da contenuti da cui posso prendere ispirazione e capire come fare gli esercizi era uno dei pochi esercizi che pensavo di saper fare correttamente però questa serie di bicipiti che abbiamo fatto in confronto a tutte quelle che ho fatto nella mia vita non mi ha mai cioè mi ha fatto molto più lavorare sul muscolo lo sento particolarmente molto di più rispetto a tutti gli esercizi che ho fatto in vita mia percezione banalmente non era mai stato impostato tutto il corpo in una determinata maniera perché l'impostazione dell'esercizio a livello posturale è propedeutica a riuscire a percepire meglio il gruppo muscolare che vuole allenare ok in maniera tale io ho fisso la posizione del corpo in maniera tale che è predisposto a farti lavorare cucciolino affondi non sono pronto non sono pronto non sono in questa vita non sono pronto ok affondi quindi ti prendo le mani in modo tale che sei in equilibrio che riesci a stare in equilibrio perlomeno le prime ripetizioni perché si parla di un piegamento sulle gambe ok posizione iniziale una gamba avanti all'altra più distanziate ancora perfetto giù e vediamo la postura come prima allora io le distanzerei ancora un po' ancora molto bene bravissimo la postura è molto l'ha già fatta lui l'unica cosa è che avendo una gamba avanti all'altra il bacino tendrà a ruotare in questo senso noi dobbiamo allinearlo bravissimo quindi in questo modo bacino allineato non ci sono angoli di compenso dell'azione che gamba tu hai avanti leggeri per lordosi scapole leggermente addotte schiena dritta compatta qui ok la respirazione devi pensare di indurir l'addome molto bene come devo scendere hai tanti modi per scendere adesso devi piegare entrambe le ginocchia e scendere toccando il ginocchio destro a terra possiamo farlo in tanti modi portando il peso all'indietro quindi sulla gamba dietro vai ok su portando il peso sulla gamba avanti tu devi trovare la stabilità e pensare di avere un peso attaccato qua sotto i pantaloncini che ti porta a scendere perfettamente dritto quindi distribuzione del carico sui piedi appoggiati pure qua distribuzione del carico sui piedi 60% su quello avanti 40% dietro è un bilanciamento abbastanza equilibrato ok bacino postura ricordati sempre qua fissalo bene in testa questo immaginati percepisci senti che livello di torsione c'è qui quasi forzata perché devi andare contro il fisiologico che ti vorrebbe far fare questo quindi tu forzi leggermente qui adesso con me cadi dritto 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 fermo su quando cadi porta il bacino indietro vai eccolo qua molto bene distanza un po' di più le gambe in questo senso bravissimo quindi quando scendo gambe tese quando scendo dritto immagina di mantenere sempre il bacino indietro quindi vai qua il mio dito ok torno su via porta più il bacino indietro vai piano scendi piano scendi piano ok e torno lo so che ti sembra il naturale ma non è male di lavorare proprio con la punta del piede devi stare sulla punta del piede ok sì sì tu essendo in retroversione di bacino tendi a portare tutto il peso in avanti per te la difficoltà di portarlo centrale perché? perché devi stare in completa anti-versione ti butta il bacino indietro e scendi lentamente 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 ok torno su dammi questa mano farla ancora ok appoggiati qui vedi come quando scendi tu scendi vai e poi torni sulla gamba dietro no stai dritto scendi a piombo qua e sali qua ok perfetto questo via con questa mano gli faccio percepire l'angolo di flessione delle gambe con questa gli do la percezione dell'iperlordosi che deve tenere via giù a piombo sì molto bene adesso togli questa mano braccia tesa avanti a te forza lento gestiscilo sì perfetto questo forza sì da solo fanno cinque soffri bastardo uno due non perdere la concentrazione immaginati immaginati in uno spazio vuoto nella tua testa devi essere perfetto fermo adesso porta il piede destro vicino al sinistro piedi pari distanziali sempre un po' porta indietro al sinistro lavoriamo sull'altra gamba ok più distanti ricorda la distanza degli altri ok bravissimo brazza tesi in avanti vai ancora un po' indietro col sinistro prendi la tua stabilità concentrati il tuo equilibrio ricordati sempre la mano qui e la mano che ti sostiene qua via giù dritto lento lento bravo ci vogliono due o tre di aggiustamento perché al sedere ti ricordi che devi andare indietro è una gamba nuova questa non hai mai fatto questo lavoro ci vogliono 4 o 5 ripetizioni vai giù 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 sì su perché da questa parte fa più fatica? perché evidentemente la scogliosi lo porta in rotazione nella parte opposta e di conseguenza fa più fatica ma ce la facciamo ci impiegheremo tre ripetizioni in più ma ce la facciamo piano e su ok questa mano avanti vaccino scendo tu senti che bravo troppo avanti stai più dietro sì anche questa avanti adesso errore qual è stato? sono andato verso destra e troppo? forse ho girato avanti butto l'inghietto sto culo ok fatti con il braggamma tese scendi da qua scendi sì ok già buono già buono non perdere rotazione postura via bruttissimo bruttissimo questo cadi dritto non andare in avanti bravo fai un altro uguale e fissalo nella tua testa fissalo fissalo nella tua testa si subentra anche la fatica fermati togli un braccio vai troppo avanti indietro col culo pensi a sederti su una sedia dietro esatto perfetto la gamba che subisce la rotazione indietro ha un deficit che lo vedete anche quando lui cammina come deambula questo vuol dire che il suo problema non è che non riesce a eseguirlo perché non ha capito come si fa è che proprio giratischina questa zona ha uno scompenso a livello non di retificazione del tratto lombaro di perlordosi ma di curvatura che ha creato una serie di compensi sul bacino e quindi sull'appoggio delle gambe sulla gestione degli arti oppure viceversa la problematica è qui e si è ripercossa qui ma indipendentemente il problema è che una gamba lavora in maniera diversa dall'altra per un compenso posturale e questo invece andremo a vederlo in futuro e tra l'altro non con me ma con un buon osteopata o un buon fisioterapista e questa sarà un'altra parte che faremo ok due vele lateralizzate in maniera corretta da non avere minimamente idea dello schema motore del movimento in quanto 15 ripetizioni abbiamo fatto un movimento non dico perfetto ma molto buono trovatevi voi una persona che non avendo mai fatto affondi non potendo avere un riferimento visivo allo specchio e nemmeno riferimento visivo sul trainer perché io potrei dirti si fa così e tu mi dici grazie al cazzo no voi quando fate i trainer fate vedere l'esercizio al vostro cliente o al vostro amico se viene nato con un amico lui non può è tutta una questione di percezione l'ha fatto corretto se tu riesci ad applicare questa cosa due o tre volte a settimana nei prossimi sei mesi abbinandoci un controllo posturale per capire con precisione che grado di scogliosi da cosa è dovuta da cosa è derivata che tipo di esercizi fare per eventualmente migliorare questo aspetto tu in sei mesi fai una metamorfosi non solo fisica ma proprio un motorio incredibile spero perché sarebbe sarebbe perché ne hai bisogno sì esatto perché il tuo in questo settore non è un limite lo può essere in altri anche se ho visto tiratori al piattello non vedenti e non chiedermi come possa essere possibile o tiratori con l'arco non so ho fatto anche quello per un periodo ecco perfetto fantastico questo è uno sport che non necessita della vista chiaro la cosa incredibile che ho visto certi culturisti salire su un palco da non vedenti e tu dici io mi ando in palestra perché voglio star bene mi sento bene e mi percepisco che sto meglio ma andare su un palco per mostrare una condizione agli altri che nemmeno io della quale nemmeno io posso godere perché e vuol dire che sei veramente appassionato sì perché se tu fai una cosa il cui risultato tu per primo non riesci a goderne ma la fai comunque boh a me lasci la bocca aperta ma comunque c'è anche la parte tattile sul c'è la parte tattile sul tuo corpo ma quando io ti seguo quando noi ci alleniamo quando tu fai una routine di pose sei su un palco e tra l'altro tu non sai neanche la condizione in cui sei chiaro o no la puoi sentire perché io ormai dopo tanti anni mi tocco l'addome e capisco che punte la preparazione sono dalla durezza dallo spessore della pelle come si dice in gergo però la soddisfazione poi è vedere vedere la foto e questi comunque nonostante quello salgono sul palco e si fanno vedere e sono emozionati perché sentono il pubblico tu sei un vero culturista indipendentemente da quanti muscoli tu possa avere secondo me sì sì sono d'accordo tutto questo lavoro va fatto per ogni singolo esercizio per ogni singola ripetizione il tuo automatismo avverrà molto più velocemente rispetto a qualsiasi altra persona che necessita invece di avere un riferimento visivo questo lo posso mettere per iscritto se tu sei d'accordo facciamo questo percorso ma e lo dico in diretta l'ho fatto con altre persone con le quali poi non ho più collaborato perché non ho mantenuto fede a questo tipo di proposta non voglio che si ripeta piuttosto mi dici di no io mi sento di dirti di sì perché penso che sia una cosa che in primis faccio oltre che per mantenere una parola con te lo faccio per me perché penso che sia una cosa veramente utile a 360 gradi sul mio corpo sulla mia percezione sulla mia psiche sulla mia mente proprio anche perché mi aiuterebbe un sacco a star meglio con me stesso quindi io dalla mia è una cosa che mi motiva e mi entusiasma un casino possiamo cominciare mano grazie grazie ragazzi io forse non sono riuscito a trasmettervi l'eccezionalità l'incredibile soddisfazione che una persona che ama il mio sport può avere vedendo che il mio sport riesce ad arrivare anche qui riesce a toccare una situazione un contesto che per molti potrebbe essere un problema della gestione di tutti i giorni eppure anche qui il bodybuilding arriva e la mia soddisfazione più grande è vedere come così tante persone con le situazioni personali più diverse alla fine convogliano tutte qua in quello che per me è sempre stato passione divertimento lavoro e vita Marco grazie di cuore per essere venuto noi adesso in separata sede parleremo del programma da fare ci rivediamo tra sei mesi ok Andrea una promessa io te l'ho fatta tu fammi una promessa la prossima volta che vengo io qua tra sei mesi tu fai il tuo allenamento tutto quello che devi fare tutto da bendato cercando anche di riuscire a fare tutto da bendato e capire anche le sensazioni come cambiano e cosa riesci a fare quali sono le cose più difficili anche che trovi sì voglio qualcuno che mi porta in giro con la manina perché sennò è un disastro che tu puoi essere abituato ma io no e all'armi occhi chiuso una cosa che io faccio già però lo faccio solo per delle piccole parti di allenamento quando sento che sono distratto dal resto allora devo concentrarmi fatto dall'inizio alla fine credo che potrebbe essere un'esperienza veramente molto interessante siccome ti immergi molto di più in quello che allora io rilancio faremo lo stesso allenamento nelle stesse condizioni volentieri ok grazie mille per essere stato con me per aver condiviso con noi questa cosa ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao